Pomeriggio della Rete 1 Il popolo televisivo è diventato un appuntamento quotidiano.Tublog è oggi in grado di anticiparvi uno degli ospiti dell'appuntamento odierno del Varietà di Rete 1. Ospite in studio di Caterina Balivo ci sarà Elisabetta Gregoraci. L'ex compagna di Flavio Briatore, che ha dichiarato al settimanale Oggi del Natale insieme all'ex Flavio Briatore e con il figlio Nathan Falco, sarà protagonista di una lunga chiacchierata con la conduttrice del programma Caterinabalivo.L'. L'apostrofo incontro fra Caterina Balivo ed Elisabetta Gregoraci è solo uno dei piatti che la puntata inonda oggi a partire dalle ore 14 su Rai 1 di Vieni da me proporrà al suo affezionato pubblico.